Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ecco la sigla! Oggi la sigla c'è. Sì, c'è questa sigla perché ho deciso di mettere questo video sia sul mio canale YouTube Andrea Lanciotti che sul canale YouTube di Navigator. Io ho due canali YouTube, uno mio personale e uno in collaborazione con Enrico e Lisa. Quindi vi invito a iscriverti sia al mio canale che a quello di Navigator dove metteremo cose bellissime, cose straordinarie e soprattutto quando andremo in viaggio ci divertiremo alla grande. Allora iniziamo. Voglio parlare un po' della mia vita in generale e dei miei sogni del cassetto che finalmente sono riuscito ad aprire e tirarli fuori e a farli parte della mia vita. Ho fatto questa piccola metafora per parlarvi un po' di quello che mi piace veramente fare. Sì, ok, il mio lavoro mi piace. Adoro stare in mezzo alle persone, adoro conoscere nuove persone, adoro avere nuove sfide e proprio per questo ho deciso di aprire quel tanto famigerato cassetto dei sogni. Il mio sogno è stato sempre di allargarmi nel mondo dell'online ma soprattutto di toccare apparecchiature digitali, usare il computer, editare, fare video come in questo momento che sto facendo e questo desiderio sta piano piano avvenendo. È vero, abbiamo iniziato da poco, però questa crescita è avvenuta, purtroppo è avvenuta, purtroppo forse è stata una cosa voluta che ebbe un incidente un paio di anni fa e da quell'incidente ho cambiato la mia visione di vita, ho cambiato il mio stile di vita ma soprattutto ho cambiato la mia mentalità. Attraverso lo studio, attraverso videocorsi, attraverso libri, tante cose. Certo ci è voluto un po' di tempo ma il mio lavoro un po' mi ha bloccato e me ne sono reso conto quando è arrivato il lockdown e mi sentivo un po' spiazzato all'inizio. Poi alla fine attraverso quei corsi che ho fatto, attraverso quelle novità che la mia mente trovava sempre di più, ho aperto finalmente quel famoso cassetto e i miei sogni si sono avverati. È vero, sono sogni piccoli che si stanno ampliando sempre di più, non vi sto qui a dire, a raccontare quello che mi è successo o quello che farò in futuro. Ci sono tanti progetti, ci sono tante cose, tra cui una è in Cruisys, come in questo caso se stai vedendo sul canale nostro Navigator e anche il il favoloso progetto di Tecnico Digitale che poi ci saranno altre novità soprattutto nel mio canale e soprattutto nel canale di Navigator. Stiamo formando un ottimo gruppo che piano piano si sta ampliando sempre di più, però vediamo che i risultati stanno arrivando. Quindi il mio cambiamento di vita non è solo un cambiamento personale, fisico, mentale e tutto il resto, ma è anche un cambiamento che mi porterà ad avere una libertà, ad avere una libertà e soprattutto a fare il, non lo chiamo più il lavoro, il mio passatempo preferito, perché fare video è un mio passatempo, mi sto divertendo e dovresti farlo anche tu. Voi mi direte ma che cosa stai dicendo? Io mi diverto a fare dei video, voi vi divertite a fare altre cose, mi piace anche andare in bicicletta, fare attività fisica, andare in montagna, sciare, sono tutte queste cose, ma sfruttatele e se riuscite ad avere un guadagno da quelle attività che a voi vi piace ancora meglio perché è come se non lavorate e vi divertite solo. Quindi il mio invito è conoscere sempre di più, aprire il vostro cassetto dei desideri e prendere il desiderio e farlo vostro, io lo sto facendo e voi lo state facendo, mettetelo nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale, fate molto di più, io vi risponderò Enrico, chi volete, quindi iscrivetevi e scrivete subito un commento, ditemi voi qual è il vostro desiderio, ditelo, aprite quel cassetto e ditemi qual è il vostro desiderio. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, ci vediamo al prossimo video, ciao!